Oggi parecchio, è andata bene, ho fatto una partita come l'abbiamo interpretata sul piano della battaglia e noi non siamo abituati a questo tipo di gioco, oggi c'è riuscito bene, siamo contenti, siamo avanti e quindi va bene così. Come conosciamo i Poggi Monzi, loro giocano su questo, quindi falli ci conoscono perché sanno come giochiamo quindi sono stati bravi a lasciarci poco spazio e quindi hanno messo più sulla battaglia. Noi non siamo in grado di fare la battaglia ma oggi l'abbiamo fatta e ci portiamo a casa ancora questi tre punti avanti e si vedrà alla fine chi sarà più forte. Come sempre dopo ogni domenica finisce lì, si riparte lunedì o martedì. Noi, ripeto, oggi abbiamo fatto un bel pareggio, siamo avanti di tre punti e comunque siamo consapevoli dei nostri mezzi e arriveremo sicuramente in fondo.